Assessore Paolo Esmeno, in scadenza la convenzione con la dita che per conto del Comune fa pagare le multe soprattutto nella zona traffico limitato. Lei in Consiglio Comunale ha parlato di questa situazione e ha chiesto alla politica di dare un indirizzo, un indirizzo che pare comincia ad arrivare grazie a una lettera del Partito Democratico. Sì, diciamo che io ho sollevato questa discussione come ne ho sollevate altre in relazione ad uno studio del risparmio delle risorse di bilancio che possono essere a mio modo di vedere destinate a fini diversi. C'è in questi giorni, mi è stata notificata una volontà, una richiesta da parte del Partito Democratico nell'attesa della scadenza che è a breve, di discutere sulla scelta politica e conveniente per l'ente su come gestire questo servizio senza trovarci, come io ho detto in tempi non sospetti, impreparati e quindi evitare eventuali proroghe o comunque rimanere impreparati rispetto a un servizio così importante che comunque determina una potenzialità di incasso che va sui 5 milioni di euro all'anno per lente, fatta salvo il condono di cui si parla in questi giorni e che il Comune per il momento nonostante tutto ciò riesce a incassare solo circa il 50%. Quindi è una discussione seria che impatta fortemente sul bilancio e quindi sui cittadini e noto che finalmente la politica inizia seriamente ad interessarsi non in maniera di pregiudizio sulla scelta fatta precedentemente ma con una sensibilità a rimanere non impreparati, come giusto che sia, su una scelta che come ripeto impatta fortemente sul bilancio di quest'ente e quindi sulle tasche dei cittadini. Se si deve andare di nuovo ad una gara esterna, cioè esternalizzare il servizio oppure renderlo all'interno del Comune, in ogni caso la procedura di assegnazione sarà diversa da come è stata fatta precedentemente, cioè ci sarà una gara anziché l'assegnazione diretta? Sì, diciamo che l'elemento che ha determinato l'affidamento alla Compunet nasce in maniera particolare perché questa società apparteneva ad un consorzio che si accomunava alla Consip, quindi tutto all'inizio sembrava lasciare intendere alla possibilità di un affidamento. Adesso questa condizione non c'è più, adesso la strada è diversa, sicuramente credo che bisogna fare una gara, ma questo atterrà al quadro dirigenziale determinare le condizioni di legalità nell'ambito della scelta, sicuramente però credo che con questi importi anche un bambino si rendereà conto che bisogna effettuare una gara così come è previsto dalla legge. Una gara che comporterà sicuramente un risparmio parlente? La politica secondo me, il risparmio è fondamentale, io ho sollevato il problema, ma oggi innanzitutto la scelta politica se farà all'interno o mantenere l'esternalizzazione della notifica delle multistradali, ma è importante anche l'efficacia, oggi è così che funziona, cioè noi dobbiamo raggiungere anche l'obiettivo di effettuare le notifiche in maniera perfetta a fine di evitare i ricorsi che determinerebbero comunque una perdita di introito per lente e quindi si determinerebbe poi un circolo virtuoso negativo. Quindi efficacia e minor costo sono gli elementi da tenere presente per affidare con la procedura prevista dalla legge l'incarico, mantenerlo all'interno. Bisogna mantenersi in questi ambiti raggiungendo il doppio obiettivo, minor costo per il cittadino e al tempo stesso efficacia nell'azione della notifica delle multe che è fondamentale in maniera diretta anche con l'impatto sul bilancio comunale.